Bentornati e buongiorno a Verona Live, sono le 13.22, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre e anche sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti e qui con me c'è Roberto Dalloca, Sindaco del Comune di Villa Franca di Verona. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora Sindaco, insomma direi che siamo arrivati alla fine dell'anno di questo 2021, tracciamo un bilancio di quello che è stato quest'anno per il Comune di Villa Franca di Verona? Ma credo che tracciare un bilancio nel 2021 sia difficile, difficile perché con una pandemia ancora in corso, se vogliamo, poco è cambiato rispetto al 2020, qualche segnale positivo c'è, fortunatamente le vaccinazioni stanno dando l'esito sperato e quindi l'emergenza del 2020 non c'è però ancora adesso non stiamo vivendo la nostra libertà come lo erano negli anni precedenti. Allora ancora attenzione, ancora tanta voglia di riprendere la nostra libertà libertà perduta però per adesso siamo ancora in periodo di restrizioni. Lo siamo purtroppo anche con gli eventi, lo siamo un po' con tutta la situazione ma io tendo sempre a vedere bicchiere mezzo pieno e sono fiducioso che stiamo prendendo la discesa di questo periodo. Speriamo sia così davvero. Ecco guardando sempre a quest'anno, al 2021, quali sono magari un paio di eventi significativi che hanno riguardato il comune? Ma se guardo eventi significativi dovrei vederne più d'uno perché se riguardo all'emergenza vissuta direi che il centro vaccini in nostra aeronautica che ha dato un contributo importante per dare una mano a tutto il territorio è stato un evento importante. Il nostro ospedale Magalini che ha dato molto a questa emergenza, ha salvato molte vite e che adesso sta riprendendo il suo percorso. Ma penso anche alla socialità se vuoi, quindi aver rivisto un programma concerti fatto al castello con Venditti, Giannananini e tanti nomi importanti dello spettacolo, ha dato a tutti la possibilità di vedere più in là e riprendere i nostri spazi. Il castello è tornato ad essere punto di riferimento della musica, della cultura e anche questo ci ha fatto enorme piacere. La nostra manifestazione Villa Francart anche quest'anno ha avuto un'esposizione importante in centro storico e quindi direi che tutto sommato questo ci dà e ci fa ben sperare. Senza dimenticare che sono partiti i lavori per il nostro Parco del Tione che sarà un parco da 160 mila metri che inaugureremo in aprile di quest'anno e quindi Villa Franca avrà anche questo. Pur essendo un momento difficile, pur essendo un momento di difficoltà, come ho detto, ma abbiamo e stiamo ottenendo grossi risultati. Ecco, allora abbiamo già parzialmente risposto alla prossima domanda, ossia cosa ci aspetta nel 2022? Quindi alcuni lavori che sono partiti adesso e che termineranno l'anno prossimo, ma cosa c'è davvero nel 2022 di Villa Franca? Ma ci sono tante progettualità, abbiamo opere per circa 20 milioni di euro, la bretellina a sud di Villa Franca che dovrebbe togliere il traffico pesante della città insieme con la Grezanella che speriamo essere quest'anno l'anno veramente dell'avvio quantomeno del procedimento di gara e le piazze, una scuola, direi che Villa Franca sta dando molto anche da questo punto di vista, perché crediamo che oltre a risolvere il problema dell'emergenza bisogna guardare al futuro. Il futuro lo si guarda anche con gli investimenti per dare un volano all'economia, questo è quello che noi abbiamo fatto e questo è quello in cui crediamo. Assolutamente. Ecco, allora visto che veramente mancano quattro giorni ormai al Natale, Sindaco, un augurio di buone feste per i concittadini e per i nostri telespettatori. Ma lo faccio veramente di cuore a tutti, è stato un anno, anzi sono stati anni difficili, permettetemi di fare dei ringraziamenti ai tanti volontari, alla protezione civile che si sono sobbarcati due anni di emergenza, quindi non solamente un periodo ristretto o qualche mese, due anni per dei volontari vuol dire sacrifici enormi a verso il tratto del tempo alla famiglia e auguro soprattutto loro di vivere con le proprie famiglie un momento di felicità perché se lo meritano per tutto quello che hanno dato. Lo dobbiamo ai tanti volontari, lo dobbiamo ai medici che non smetteremo mai di ringraziare, ma anche a tutte le persone più umili, normali che hanno voluto essere vicino alle persone in sofferenza, a tutte le persone che hanno dato un minimo appoggio anche all'amministrazione per risolvere questo momento difficile perché nessuno da solo avrebbe risolto questa pandemia. Allora rinnovo il mio grazie a tutti e auguro a tutti e a tutte le famiglie in ascolto delle buone feste e buon Natale. Benissimo, allora Sindaco, buone feste e buon Natale anche da parte nostra e alla prossima. Grazie, a poi. Benissimo, adesso spazio alla musica e ne torniamo tra poco. Grazie a tutti.